Grande fratello, sondaggi sorprendenti, Maria Vittoria Regina e colpo di scena per Shaila. Chi esce lunedì? Nella prossima puntata del reality show di Alfonso Signorini il pubblico è chiamato nuovamente al votare, in tre nomination, le proiezioni del televoto Cambiano i protagonisti, ma non la formula del grande fratello Nella puntata del reality show di Alfonso Signorini, la dodicesima diretta stagionale, in programma il prossimo 11 novembre 2024 su Canale 5, infatti, il pubblico sarà nuovamente chiamato a votare In nomination ci sono tre concorrenti, in lotta per Bandù e in unità, chi di loro si salverà? Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e analizziamo la situazione nella casa più spiata d'Italia Grande fratello, le nomination Durante la puntata del grande fratello andata in onda lo scorso lunedì, che rimarrà l'appuntamento settimanale fisso, senza lasciare spazio al discusso ritorno della talpa di Diletta Leotta come inizialmente ipotizzato, non sono mancati gli avvicendamenti nella casa più spiata d'Italia Iago Garcia è stato eliminato a sorpresa al televoto con il 21,1% dei voti ed è stato costretto a lasciare il GF, ma i coinquilini del reality show di Alfonso Signorini sono rimasti 17 con l'ingresso di Alfonso Dapice, nuovo concorrente direttamente da Temptation Island pronto a riconquistare la sua ex Federica Petagna Archiviata la polemica per l'eliminazione di Iago, al termine della diretta sono stati svelati i nominati dell'ultima puntata In nomination ci sono Maria Vittoria Minghetti, Shaila Gatta e Clayton Norcross. Maria Vittoria è stata nominata ovviamente da Lorenzo e, segretamente, da Giulia, ma anche dagli stessi Clayton e Shaila L'ex Vellina è stata a sua volta nominata da Maria Vittoria, oltre che da Amanda e il duo Elena Vier, mentre l'ex volto di Beautiful è stato nominato dalle nona Ella Rai, da Jessica, Luca Giglio, Enzo Paolo e Luca Calvani I sondaggi, chi rischia l'eliminazione Nel corso della dodicesima diretta stagionale del Grande Fratello in programma lunedì 11 novembre 2024, come detto, ci saranno tre concorrenti in nomination per ben due immunità in palio Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio Jeffino preferito, i due più votati saranno salvi fino alla prossima eliminazione I sondaggi del portale a tema GF Forum Fre, al momento, vedono una grande favorita, Maria Vittoria Minghetti, con addirittura il 55% delle preferenze secondo le proiezioni Shai la gatta, un po' a sorpresa, dopo il discusso ritorno con Lorenzo spolverato dal Gran Hermano ha iniziato a raccogliere consensi tra il pubblico fino a raggiungere il 27%. Clayton Norcross chiude con il 18% delle preferenze